buongiorno con un pacchettino un pacchettino un pacchettino indovinate cosa devo fare cosa devo fare apriamo il pacchettino si sono un po scema ma sono due giorni che sto chiusa in casa quindi perdonatemi aspettato no tornata con questo ciuffetto ribelle ho acceso la luce apriamo il pacchetti 123 che delusione così piccole pensavo per enorme è il colore blu per i capelli vegano che delusione raga ma aspettavo un coso enorme vabbè detta così però mi aspettavo qualcosa di carino vabbè non lo so adesso vediamo tutto vado finalmente a colorarmi i capelli vediamo vediamo hanno detto che è miracoloso chissà come esco oggi non ho idea non ho idea non riesco ad aprire dopo chissà che devo combinare tutto blu già mi vedo e non si toglie ce la posso fare guardate qua che blu che blu che blu non si vede niente l'ho messo vicino abbiamo iniziato la schifezza bene ragazze io mi vado a colorare i capelli lo andiamo a mettere in testa al mio 12 no 3 2 1 ci siamo una cosa bella di questi cosi è che tu prendi e butti sul capello senza esaurirti quel che esce io farò così non mi sporca tutto sicuramente però almeno messi come funziona vediamo emma per la brava perché l'ho detto al muro qua dice due applicazioni si e 30 minuti e poi fare lo shampoo vabbè ho tradotto perché se tutte le lingue tranne che è la nostra ovviamente eh ma lascia stare prendo vabbè io vado un po fantasia non so cosa ne uscirà vedete si vede bene mi riempio tutta la testa che ci vediamo fra 30 minuti bene 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 sono in attesa dei 30 minuti allora la c'è scritto che si possono fare due tinte cioè quindi due maschere ma in realtà l'ho quasi consumato tutto perché a meno che non hai capelli corti corti secondo me sui capelli lunghi e pochissimo quindi male che compratene due compratene due per sicurezza se avete i capelli lunghi perché già me che sono corti e sono pochi ne ho usato quasi uno costicchia un pochettino comunque se mi ricordo vi lascio il link ma se lo volete chiedetemelo aspettate e chiedetemelo che fate prima così vi mando direttamente i link andiamo a lavare perché aspetto 30 minuti e poi mi lavo e vi faccio vedere ragazze eccomi qui colore fatto piega fatta che ne dite bello a me piace mi piace molto più scuro ma mi piace devo dire la verità preferivo un colore più scuro scusate il dietro ma sapete che qua a caso trasloco a parte che il mobile non finito ma per fortuna sti mobili li dobbiamo togliere infatti devo trovare qualcuno che me li venga se riprenda insomma non so cosa ne faccia oppure comunque chiamerò quelli dei rifiuti ecco se non trovo qualcuno che li vuole chiamerò appunto i rifiuti che quelli la del della del comune insomma ecco è nulla allora cosa ne pensate forse non si vede tanto bene ma vi ho caricato ovviamente un video che ho messo su tik tok dove si vedono bene con la luce tutto lo vedrete prima di questo l'avete già visto e ma mi sta facendo tante foto la monellina nulla io adesso sto facendo l'impasto un pasto per le pizze e ci vediamo più tardi ragazzuole qui fa di nuovo caldo come si vede ho legato i capelli no pure perché devo fare le pizze quindi ho detto mo li leggo un attimo nulla passiamo dall'aria fresca al caldo aria fresca e caldo non se ne può più nulla mi metto all'opera e poi dopo vi devo far vedere allora intanto vi faccio delle scarpe che mamma ha regalato a te ma bellissime da tata guardate quante so carine belle 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 e poi dopo vi faccio le altre cosine ah sì questo guardate quanto è bello il portaciuccio per brando e poi dopo vi faccio vedere il resto perché adesso vado un po di fretta a tra un po buongiorno scusate ieri sera ditelo ancora non ho più registrato ormai vi siete rassegnati a questa cosa lo so lo so allora non ti avevo riconosciuta oddio scusate la disabilità allora vi voglio fare dire il completino che ha regalato mamma d'emma che vi avevo detto vi faccio vedere le altre cosine dopo sono sparite nel nulla allora dall'ovs questo completino stupendo guardate qua come carino bello rosa carino caruccio che mo iniziamo con la manica lunga fra un po e poi il pantalone sotto a leggins questo qui con i cuoricini bello bello non mi ricordo più che vi devo far vedere qualche altra cosina spaventare sono anziana non le ragazze vi saluto chiudo quel video perché voi lo sapete che io se non chiudo il video non so contenta mi devo per forza sono da sono molti che invece fanno il video poi non salutano manco io invece sono educato bisogno di essere così di salutare di dire ci vediamo domani perché ormai è un abitudine mia anche se adesso con gli shorts sono più attiva vi saluto vi metto i bambini cosa fanno insomma è molto carina come cosa perché è più reale no vabbè vi ho caricato un po di quelli vecchi che avevo su tik tok però adesso sto iniziando a farne un po di nuovi quindi vi saluto al mattino queste cose qua le colazioni poi man mano che riusciamo a mano che arriva il freddo che io sto bella più attiva più tranquilla più non sento caldo almeno riesco a fare più video ragazze questo è tutto noi fra un po usciamo andiamo a fare una passeggiata oggi domenica voi lo vedrete dopo andiamo a fare una passeggiatina quindi vi do appuntamento al prossimo video e nulla questo è tutto vi auguro una buona giornata una buona serata quel che sia e alla prossima ciao